A posto! Diagon Drive e Pistonesi, uno accanto all'altro, a precedere Abrazzo Delsi, che si adegua davanti a Sankir, quinto è Silver Wash, sesto è Lodo Isca, poi Pensiero Debole, Cioccolata e via via tutti gli altri, vanno forti quelli davanti, eh? Diagon Drive che ha risposto a Pistonesi, due a natura allegra, a precedere Silver Wash, Abrazzo Delsi e Sankir, Lodo Isca, Pensiero Debole, Cioccolata, Chiaro Monte, Important Lady e Ascarello e via via tutti gli altri, con Silver Wash che prova l'attacco, poi Calas, intanto il leader, c'è anche Pensiero Debole, Sankir, sono queste le posizioni, Eli Song, poi Lodo Isca e nel Cioccolata all'esterno, sono questi a lottare, ma è difficile poi andare a prendere Eli su Cioccolata e Lodo Isca, dovrebbe essere questo, alla resa dei conti ha giocato molto bene le sue chance, Eli Song andando a vincere, Su Cioccolata, Lodo Isca e Sankir, due a dieci otto, è l'ordine d'arrivo di questa prova, due a dieci otto, quarto Sankir, diamanti con le immagini per vedere il quinto, quinto alla fine è overproof, è tutto? Grazie mille, grazie mille, grazie mille.